Come Movimento 5 Stelle ci siamo mossi a livello nazionale con la senatrice Sara Paglini che fortemente ha voluto la commissione d'inchiesta sulle morti nei luoghi di lavoro e si è mossa da subito, era sul luogo del tragico evento di ieri insieme ai nostri consiglieri comunali. Siamo stanchi di vedere gli avvoltoi della vecchia politica che vanno nei luoghi dove ci sono i cadaveri per creare consenso elettorale. Farsi di Prisciar Rossi? In generale a quei politici che erano lì più che altro senza aver in passato quando serviva manifestato il massimo interesse per questo tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordo che la regione toscana è una regione che primeggia in Italia come numero di incidenti e vuol dire che non abbiamo fatto abbastanza in passato su questo tema. È opportuno essere presenti ma dobbiamo evitare assolutamente di strumentalizzare questi accadimenti e muoversi quando serve. È tardi arrivare sul luogo della tragedia perché il fatto è già avvenuto. Abbiamo bisogno di lavorare soprattutto dove serve lavorare che è in questa commissione nazionale dove ci sono presenti tutte le forze politiche, l'abbiamo voluta fortemente noi, dove lì dobbiamo fare chiarezza su quali sono gli strumenti e i modi per evitare che si ripetano queste cose. C'è un senso di diffuso di fatalismo in quella zona come se tutto fosse già scritto e non si potesse fare niente. In realtà si può fare molto, dobbiamo fare dei corsi di formazione per i lavoratori, adottare tutte le misure precauzionali ma riconoscendo anche che sono luoghi di lavoro veramente delicati. Allora la domanda è oltre alle questioni ambientali dove quella terra manifesta delle criticità, quanto è sostenibile in termini di vita umana e quell'attività così storica e impattante perché assistiamo ormai quasi quotidianamente o degli incidenti o addirittura proprio delle morti nei luoghi di lavoro. Cosa pensa il Movimento 5 Stelle della proposta di Dussi di sospendere le concessioni alle cave nelle quali succedono incidenti mortali sul lavoro? È un'idea che voi appoggiate, sostenete oppure no? Ma dipende anche lì, sono quelle frasi buttate lì nei momenti di disperazione, cosa vuol dire sospendere? Se uno ha fatto tutto quanto doveva fare perché sospenderle no? Cioè bisogna essere razionale, non strumentalizzare la cosa né ragionare per emotività. Allora se sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza c'è anche il destino ma lì non ci possiamo fare nulla. Noi dobbiamo partire prima, prima, fare quelle verifiche perché non accada quello che è successo. Quante volte sono stati mandati a APAT, ASDA a fare i controlli? Sono stati fatti i controlli? Quali erano le misure di sicurezza adottate quando sono successi questi eventi? Sono questi gli elementi di cui discutere. Lanciare le frasi così a spot a qualche ora dall'evento non ci sembra responsabile soprattutto a chi dovrebbe governare la regione, trasmettendo un senso di responsabilità e di razionalità e non di emotività. Grazie.